Ballando Barbara D'Urso ballerina per una notte? Parla Caroline Smith Caroline Smith ospite oggi di Barbara D'Urso ha chiesto ufficialmente alla conduttrice di partecipare a Ballando con le stelle nella nuova edizione. Il giudice della trasmissione di Rai 1 ha infatti affermato che sa che la D'Urso è abituale a fare sorprese ai suoi ospiti, ma questa volta ha voluto farle lei un regalo. Ha quindi invitato Barbara a venire al centro dello studio insieme a lei, e prendendola per mano ha annunciato io ufficialmente, in quanto giudice di Ballando con le stelle, e Millie Carlucci, ti siamo invitando a fare Ballando per una notte. Lo sai che ti voglio da tanto tempo e ora che so che balli ogni mattina, penso che possa essere un'esperienza bellissima per te. Barbara, presa alla sprovvista, ha inizialmente riso di gioia e ha poi affermato lo sai che in questo momento Pier Silvio Berlusconi è svenuto? Ti devo dire che i miei capi sono molto gelosi di me, ma se mi danno il permesso, parteciperei volentieri. Caroline Smith invita Barbara D'Urso a partecipare a Ballando con le stelle Barbara D'Urso sembrerebbe quindi aver accettato l'invito di Caroline Smith a Ballando, anche se comunque la conduttrice napoletana è stata fin troppo chiara per motivi di contratto. Barbara infatti potrebbe non poter prestare il suo volto per il canale concorrente. La Smith ha poi ricordato da Barbara il difficile periodo che ha attraversato a causa del suo tumore al seno A proposito di questo il giudice del programma ha rivelato che i suoi due cani sembravano aver capito cosa le stesse succedendo ancora prima che lei fosse consapevole della malattia. Quella mattina infatti si ascolti che Bibi per giocare le andavano contro il suo seno sinistro, il quale le faceva stranamente troppo male. Il controllo aveva poi svelato la terribile malattia, durata dal 2015 fino a ridosso di Ballando con le stelle in cui si era sempre presentata con il turbante. A domenica live, Barbara e Caroline hanno però anche sorriso, in quando la conduttrice napoletana ha chiesto alla sua ospite di darle un parere sul ballo. Barbara si è quindi tolta la vestaglia che aveva addosso e ha mostrato il vestito che aveva indossato anche durante il promo del talk domenicale, per poi mettersi a ballare insieme al suo maestro. A fine esibizione, la d'Urso ha affermato di essersi dimenticata tutti i passi, e che non potrà mai parteciare a Ballando. A tali parole, la smita ha rincarato la dose No, noi ti vogliamo, e tu ci verrai.